Quello mi vuole male... Ma no! Ma non ti permetterà di killarmi a Ria, il poverino! No! Ma Ria non dovevi killarmi! Qualche problemi che c'ha questo? Sono tuo compagno! Ragazzi, un saluto a vostra stati e benvenuti su Brow Stars! C'è una nuova sfida che ci compete! Sfida dei maledetti! Maledetti! Siamo insieme a Carlos e a Rial! A quanto ho capito, un piccolo spoiler, dovrebbero esserci problemi nelle mappe! Vita infinita, nessun margine di errore! La football... Perché c'è il fuoco? Si spieghi meglio! Quindi qua ci sta il pallone! Infuocato! Nel KO dovrebbe esserci tipo che siamo fantasmi e prendiamo tipo vita? Giusto? Esattamente! Non posso ricordarmi di tutte le icone del gioco! Sono diventate 200 miliardi! Questa senza guardare mi immagino che sarà tipo la mappa che va sia a destra che a sinistra! Il terreno si inclina! E questo! Questo fa troppo ridere! È divertentissimo! Mamma mia ragazzi! Il bubu set! Ogni tanto si spariva! Poi si rispuntava! Qua ci saranno tipo... Metteranno scegliere! Roba strane! Mianeggiamolo immagino! Te la ritrovi davanti! Ciao! E infine una nuova reazione! Che ci sta tantissimo! È il logo della Brawl Stars! Con le gemme! Effettivamente ci sta un botto! Perché riguarda i pirati! Quindi bella bella! Eh che cavolo! Ma perché Dynamike? Qua ora prendono il pallone! E corrono tutti! Perché qua basta prendere quello! E sei a posto! Basta che vai a pushare! Ed è un casino! Non riescono più a pararlo! Perché vanno oltre il muretto! Vai! Ma puoi pure lanciare! Real! Mannaggia! L'è la miseria! Oh ma stai rompendo tu le scato! Ma che cosa vuoi? Ecco appunto! Carlo! Quello stavo cercando di dire! Wii! Lanciamoci! Buongiorno! Principessola! No! Ho preso io tutti i colpi che potevo prendere! Aspetta! Devo stare attento! Perché non si deve lui avvicinare per nessunissimo! Motivo! Ok! Quanto danno che fa quella! Ma che è? Aiuto! Aiuto! Dai no! Ma è che non farle queste cose! No! Quanto danno mi ha spremuto! Mi ha completamente non avvelenato! Peggio! Shalve! Vieni! Vieni qui! Ci sono io! Pocino! Edgar! Gas! Gas mi sa che è un bot! Non lo so! C'ha un nome molto strano! Ogni tanto ci sono i bot russi che sono esploduti! Mamma mia! Quanto danno che ci ha fatto pure quello! Carlo che va a pusher a quell'altro! Dai che se rompe tutto tanto! Real! Sii sicuro di te stesso! Bravo! Per gentil cortesia! Io vorrei soltanto giusto lanciarmi un pochettino! Non voglio fare altro! Pizzabella sta tripla! Via! Ciao! Bello! Bellissimo fatto così! Tieni Carlos! Fai il gol pure nel muretto! Dai! Avanti! Che bello qua! Tutti i fantasmagori ci siamo! Ora basterebbe pure colpirne uno e già loro stanno per crepare! Come possiamo crepare volendo anche noi! Giusto eh? Non è che siamo soltanto... Ah! Già un e vol... No! Che cos'era? Non l'ho visto! Cos'è crepato? Boh! Mi sa che era crepata Maisie? Era Maisie forse! Già è andato! Infatti l'ho detto a loro! O pusciamo troppo e moriamo! O pusciamo poco e moriamo! Quindi ci deve essere un sistema di calcolo per fare una roba così! Oh! Perfetto! Ok! Già questa mi sembra una comp un po' più realizzata che è fatta a caso! Cioè c'è Bibi e dovrebbe stare quindi dietro i muretti! Perché io già parto con poca vita? Non capisco! No! Che schifo! Cioè non ho capito! Fammi... Sto cercando di comprendere un po' il tutto! Aspetta! Ok! Ma a noi serviva quello! Mannaggia! Real! Ma come? Signor Real! Ma come si permette a fare ste cose? Aspetta dai vediamo se ci impegniamo un pochino! Abbiamo preso forse troppo alla leggera! No! Ma che ci fa questa giacquina? Ma veramente? Con quale probabilità me lo stavi dicendo? Allora piano piano ho già volato a Bibi! No! Carl! Ma non dovevi creparci! Mannaggia! Dai 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 dai! Che quello dovrebbe toglierla! Dovrebbe indebolire tantissimo! Real! Se magari eviti di far tacchiappare! Forse forse! È rimasta solo lei! Appena ho capito perché si erano tipo arrabbiati! Ok! Ok! No! Bravo! Meno male! Meno male che non ce la sono andata a colpire a quella roba orribile! Ok! Quella è andata! È rimasto soltanto uno! Andatela a crepare ragazzi! Io sono qua che sto subendo pure le bombe senza fare niente! Perfetto! Siamo nella mappa dei pirati ubriachi! Ah! Dobbiamo fare di tutto per non volare a testa a sinistra! Allora ok! Voi andate di là che io gli rompo le scatole pure dall'altra parte! E là! Buongiorno! Ma dove stava colpendo la colt? Aspetta che gli rompono le scatole all'altro! No! Quella c'ha Jackie! Perfetto! Fammi mettere questo qua! Mamma mia! Piano! Che mi sto in mezzo partendo! WIIIIIIII! Si gode! Si vola no? Si gode! Ciao! Colt! Stortolo! Colt! Fatti là i cosi! Delle misure là! Dell'equilibrio! Aspetta! Togliamo pure all'altro! Ma puoi mettermi mai Jackie qua? Che svolazzi da tutte le parti! Aspetta che... No! No! Lì è brutto quello! No! Quello mi vuole male! No! Ma no! Ma non ti permetterà a killarmi a rinforzare! Maria il poverino! No! Maria non dovevi killarmi! Ma che problemi che c'ha questo! Sono tuo compagno! Non ti avrebbe killato! Testa di... Non lo so! Di... Di pannocchia! Testa di qualcosa! Basta che lo è! Che bellina paperina! Qui! Basta con sti Tomar! Non li posso più vedere! Ma che cos'è? Una maledizione! Basta sti Tomar! Ma che caspita! E che diamine! Mamma mia! Buongiorno! Aspetta aspetta! Facciamo così! Allora visto e considerato che è? Quello è qui! E ma aiutami! Testa di banano! Bravo cannos! Bello stupesh! U pesh! U pesh! No! Dai no! Ma che stai calmo! Non ti avvizza! Mi hanno lanciato tutti e tre lo stesso colpo! Mi hanno completamente frullato direi! No! Vai 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 vai! Dobbiamo sbrigarci! Che quelli stanno a fare i casini! Ciao! Vai! Facciamo così! Vediamo se ci riusciamo! Dai che abbiamo più percentuale di lui! Ah vero! Perché c'è pure il mio rallentamento tra l'altro! Quello mi vuole malissimo! Non ho male che ci siamo andati in là! Oh! Togliti! Dobbiamo farlo camminare! Bravo Rialina! Hai capito tutto alla vita! Carlo vai! Toglili! Bravo Rial! Avanti! E come si permette quella a picchiarmi? Beh Rial non potevi spiegare meglio la mappa con questa frase! Sei uno stupido! Eccoli! Ora dobbiamo diventare ragazzi invisibili! Vediamo che cosa succede diventando invisibili! Mi sa che qua andava bene la signorina! Cacchio è sta cosa? Le bombe! Dovevo mettere la signorina ambra qua! Sono una testa di banana! Perché sarebbe andata molto bene! Aspetta! Anche se comunque Griff non è che mi dispiace tanto! Eppure è buono la Griff! Aspetta! Devo stare attento perché è un casino! Ok! L'importante è che ci hanno fatto quello se l'è portato! Cioè non solo diventiamo invisibili! Ci manca pure che te la porti nel sottosolo! Ma perché quelle qui? Non me ne sono accorto! Ma di nuovo quello se l'è portato! Ma basta rapire la gente a caso! Ma guarda lì! Ma pure! Curbacchione! Ok! Ecco perché non prendo le gemme! No! Quello mi scambia i colpi! Aspetta! Pocho! Pocho è molto forte qua! Ma io a chi sto sparando? Se è quello se li porta nel sottosopra! Mi sembra che tipo se ne vada in invisibili! Invece no! Facciamo scoppiare la mappa! Carlo mi sta dicendo che anche se lui se li porta nel sottosopra! C'è lo stesso l'invisibilità! Quindi non è buggato! Cioè hanno pensato veramente di andare a mettere l'invisibilità nell'abilità di Cordelius! Che è molto utile questa cosa! E' giusta anche altrimenti non si capiva niente! Ti immagini! Ci mancava che riuscisse a vederlo nella dimensione! Aspetta io c'ho paura se li ritrovo in faccia e mi fanno... Ciao Gemmino! No! Cheat! Io faccio le preview tattiche! Bello! Dai Puffi siamo così! Ma c'era quello lì! E tu sei sempre fermo lì! No! Aspetta! No! Quello è di qua! E meno male che c'avevi l'abilità me l'è spiasa! Quindi non siamo... Che tra l'altro è quella sua! Alla fine! Voilà! Io veramente! Ma vi immaginate trovare Shelly in faccia? Quello perché sta pushando? Che sta combinando quello! Tanto non funziona né sotto sopra! Non cambia niente! Ma che cos'era? Cosa si era dentro quel grip? Grazie per la vittoria! Ci siamo portati in saccoccia! Bellissima la schermata! Ragazzi complimenti i disegnatori per la schermata del caricamento! Molto molto bella i brawler che sono messi in fila! Pirateschi! Andiamo su ritira! Bellissima l'emote! Molto bella! Ve l'ho detto! Con gli occhietti! Con i rubini! Proprio ci sta tantissimo la roba piratesca! Ragazzi ringrazio Carlino e il signor Real Marzo che si sono messi i fantasmini! Va bene! Anch'io vi voglio bene! Voglio bene anche chi sta lasciando mi piace! Chi sta seguendo sempre le mie live e i miei video! Un bacione! Per questo video è tutto! Lasciate mi piace, iscrivetevi, commentate e condividete! In descrizione trovate Instagram, TikTok e il server ufficiale Discord del canale! Vi trovate ogni giorno in live sempre le 5 al pomeriggio fino alle 7 con Brawl Stars, StumbleGuys e FallGuys! Ciao! Ciao 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 ciao! Ciao 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 ciao!